ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi voglio fare un video che mi permetto essere breve per spiegarvi quanto magari non si è capito dal video scorso nel senso che io adesso sto per affrontare uno dei primi boss obbligatori del gioco e il gioco prima di tutto ci aiuta quindi permettendoci di evocare un aiuto quindi non so un sicuro sia un altro giocatore ma sicuramente un'evocazione di un di un npc che ci dà una mano ma una delle cose importanti diciamo per cui dovete sempre ragionare sul fatto che qualsiasi cosa che sembra impossibile in realtà in gioco basta saperla fare ecco seguendo le guide quindi questo che vi dico che è importante potrebbe pesare sul vostro gameplay il fatto di seguire dei video online che potrebbero facilitarvi le cose non sono dei tre che ma sono semplicemente degli oggetti che magari potete recuperare correndo in zone pericolosissime che poi vi servono poi per sconfiggere facilmente un boss ora andremo utilizzare questa evocazione che è le cenere di cane andaggio marcescente questo è in grado di attaccare al boss il malus il debuff marcescente in pratica che lo fa marciere quindi gli fa perdere vita fondamentale sarà e non è detto che io ci riesca al primo colpo riuscire a farlo attaccare abbastanza tanto da attaccargli questo debuff questo debuff andrà pian piano a rosicargli la vita fino a farlo morire in sintesi così vi voltate via il boss senza doverlo neanche combattere eccessivamente comunque andiamo a provare a presto Ok, il boss credo stia già perdendo vita Quindi è vitale, ora, stargli il più lontano possibile Sempre che ci riesca perché è tosto E ho già finito le pozioni Quindi fondamentale è, in questo caso, vedete che lui sta perdendo la vita Ma io scappo e gli sto il più lontano possibile E pian piano lui morirà Vedete che la vita gli sta scendendo, ha questo debuff Che gli dà questo enorme malus E quindi lui morirà per i fatti suoi L'importante è stargli lontano e non morire come ho fatto io in questo momento Ho perso un po' troppe pozioni all'inizio Però abbiamo già le basi per quello che può essere il successivo tentativo Ovviamente io affronto sempre i boss prima spendendo Magari farmando un pochino di Erune In modo che se muoio e decido poi di rinunciarci Non lascio sul campo di battaglia eccessivamente Diciamo un eccessivo numero di Erune che poi vanno perse Ci riproviamo E basta distrarsi un momentino e Nel momento in cui gli esce l'aura rossa Vedete che intanto il cane lo sta attaccando Lui intanto ce l'ha con noi Dopo un po' se la prende anche con lui E potrebbe ucciderlo prima di Infatti dovremmo intervenire Ok dovrebbe avergli all'attaccata A questo punto Fuggiamo Teliamo E ci curiamo Recuperate le anime ma non avevo nulla Le anime Ok Oddio poi qualche colpo Lì lo possiamo dare lo stesso per velocizzare la cosa Però Ricordatevi che nel momento in cui il cane muore Lui ce l'ha con noi Quindi cerchiamo di distrarlo magari il più possibile Il cane è andato E ora è vitale Fuggire Stargli lontano E lui pian piano inizia a perdere la vita Ovviamente Dobbiamo fare attenzione a queste cose Perché Lui ci attacca a distanza E non possiamo evocare il cavallo qua Pensate Quanto è difficile scappare Mai in linea retta Ci riposiamo In modo che risalga la stamina E lui pian piano sta morendo Dobbiamo sempre fare attenzione agli attacchi Che potrebbe lanciare magari state in posizione Di Di difesa In modo che E un po' di vita Ve la toglie comunque Però Via Mai in linea retta Ok Mi rimetto qui Pian piano Pian piano Pian piano Pian piano Poi ovvio Il dilemma Fondamentalmente è Voglio giocarlo così Cioè Informarmi Sui boss E E superarli così O Magari Può darsi anche Che Siate Bravi Da scoprire Tutte queste cose Da soli Nulla Ve lo vieta È difficile Senza dubbio Usano Che siamo Tremendamente fighi Ok Questo era Diciamo Il primo boss grosso di gioco Superato In modo Totalmente Semplice Il discorso è Era la prima volta che lo facevo Sì Mi ero informato su come farlo Ora Il discorso è Non voglio lanciare un messaggio sbagliato Voglio dire che Un gioco di questo tipo Un souls like Un Elden ring È affrontabile Con Degli aiuti Che non sono Dei trainer Dell'immortalità E Non mi riferisco neanche a quelle cose Quei trick Per ottenere Rune infinite Ma Sapendo cosa fare Ovvio Lo potete fare anche da soli Potete Cioè Dovete sapere Che però Il gioco vi dà sempre La possibilità Di avere Una facilitazione E questo me ne sono accorto Anche del primo souls Dove io Non riuscivo a superare In passato Anni passati Dei punti E poi L'ho ripreso quest'anno Per preparazione Elden ring E Seguendo delle guerre Mi sono accorto che Ah ok Si poteva fare anche così Cioè vi dà sempre una seconda chance Non è mai Vai E prendi una Marea di botte Cercando di Di Magari Di far incastrare il mostro E ucciderlo così Cioè vi dà sempre La possibilità di Concentrarvi Rendervi più potenti Tornare sul luogo E quindi Dovete affrontarlo Con questa mentalità Qui E la stessa mentalità Che sto facendo io Ovvio Io gioco Poi uno gioca anche In proporzione al tempo che ha Me lo Me lo godo pian piano Senza fretta Di arrivare al boss Infatti Passate 15 ore Adesso Prima di questo boss Però mi sono reso Abbastanza potente Ho esplorato Cioè l'esplorazione Rispetto agli altri Dark Souls C'è ancora di più Avete Una mappa enorme Io Questa zona qui Non l'ho ancora esplorata Per dire Quindi magari adesso Oltre che andare avanti Magari Questa è una zona Abbastanza complessa Magari Mi esploro questa zona Mi trovo qualcosina E Sappiate sempre Che comunque Ci sono cose Ultrapotenti Ho visto che Questa evocazione Per quanto sia utile Magari Vi trovate di fronte Il boss Che non ha All'immunità Verso la Marcescenza Vi servirà qualcos'altro Ci sono altre cose Ovvio Più esplorate Più vi spingete Ecco Il bastone La carota Più vi spingete Ad esempio Questa zona qui È una zona Molto pericolosa Per me Ma se ci vado E magari Non uccido neanche Ma magari Mi permetto Di sbloccare Qualche Diciamo Qualche Grazia Apro Qualche forziere Magari All'interno Il gioco Premia il mio stealth Premia la mia Sopravvivenza All'interno Con qualcosa Che Magari qui Mi è semplicemente Utile Mentre In ambienti Più consoni Al mio livello Mi sono Utilissimi Ecco Questa È la mentalità E con questo Chiudo Il capitolo Elden Ring Sul canale Fatemi sapere Che cosa ne pensate E ci sentiamo Al prossimo Video Gameplay Alla prossima Ragazzi E ciao ciao